Benvenuti a tutti nel mio canale di Notizia Italia nel mio cuore, la storia di oggi è dopo Londra. La bico Dopo il fine settimana dedicato al giubileo di platino di Elisabetta II, l'ombelico del mondo diventa il piccolo e bellissimo comune alle porte di Roma L'11 giugno 2022 è il giorno dell'evento clou di questo inizio d'estate Un evento annunciato non con squilli di tromba, ma quasi sottovoce, per non destare eccessivo clamore Perché è così che ha deciso il protagonista dell'evento, in accordo con colui il quale condividerà il suo momento più importante Alberto Matano è pronto al grande passo anche se alcune sue dichiarazioni lasciano intendere che non sia poi tanto convinto nel compiere un'azione così importante e di grande responsabilità Alberto Matano, il matrimonio sa da fare.Un'intera comunità attende con ansia un evento che rimarrà nella loro storia La bico è la bellissima location, ad un passo dalla capitale, dove Alberto Matano e Riccardo Mannino hanno deciso di pronunciare i loro si davanti a colei che la coppia ha scelto come straordinario officiante del rito civile, ovvero Mara Venier Sarà infatti la conduttrice veneziana, con tanto di fascia tricolore, a benedire, civilmente, la splendida coppia Un matrimonio che vedrà la presenza, tra gli invitati, dell'attore Claudio Santa Maria e della sua compagna Francesca Barra, nonché del cantante dei Negramaro, Giuliano San Giorgi Ma agli occhi saranno, ovviamente, tutti per la bellissima coppia di sposi, nonché per il particolarissimo officiante Ma c'è una frase di Alberto Matano che ha lasciato tutti un po' sgomenti Ma cosa ha detto il conduttore della vita in diretta? Il suo gruppo di lavoro e la rivelazione Nel suo orizzonte l'11 giugno si distingue già in maniera nitidissima Ma il giornalista, conduttore ha lavorato fino alla fine, da grande professionista qual è Così invece di prepararsi, di curare ogni minimo dettaglio del momento più importante della sua vita E' rimasto circondato da quel grande gruppo di collaboratori che hanno permesso alla sua trasmissione, la vita in diretta, di vivere una stagione entusiasmante dove, quasi sempre, l'intera concorrenza è stata sbaragliata A seguito di questa inusuale situazione, ecco la sua sincera rivelazione, voi direte chissà dove sarà, si starà preparando eccetera Io invece guardate dove sono, con la solita banda, ma sono da ricoverare, queste le sue testuali, ed ironiche, parole riportate dalla nostra It. Ma ormai ci siamo. Non ci sono più giorni, ma soltanto ore e minuti La Bico, Mara, Riccardo aspettano soltanto lui e ad Alberto Matano resterà soltanto di aspettare quel momento che cambierà la sua vita Per sempre. Auguri.Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie Grazie per la visione